Mi chiamo Giorgio Viarengo, vengo da Torino e sono il presidente della società di mutuo soccorso Edmondo di Amicis, fondata nel 1908 a Torino da un gruppetto di contadini, operai, tranvieri della barriera di Casane. Io sono in realtà in questo momento il coordinatore regionale, nel senso della presidenza del coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso del Piemonte e in qualche modo come tale dovrei riuscire a coordinare un po' le centinaia di società ancora attive in Piemonte, cosa non facile ma è comunque molto sfidante. Dunque nel 1908 nasce a Torino in qualche modo dalla confluenza di società preesistenti, la fratellanza, un gruppo di amici che veniva essenzialmente dai tranvieri e questi in quel momento così storico particolare decidono di associarsi per tutelarsi così come da storia del mutuo soccorso in generale, tutelarsi, tutelarsi i propri familiari e anche trovare delle occasioni di convivialità che permettessero in qualche modo a una comunità di essere un pochino più forte e contrattuale. La prova d'ordine era l'unione fa la forza, in questo caso si uniscono due gruppetti, due società della zona, decidono di costruire la sede sociale, uno dei simboli fondamentali del mutuo soccorso e decidono anche di intitolarla a De Amicis perché è esattamente nel 1908 che muore il famoso scrittore, in realtà piemontese di adozione, ma ligure per nascita e per morte, di cui però fu fatto un grandissimo funerale a Torino, a memoria d'uomo non si ricordava un funerale così partecipato perché era molto amato il De Amicis, era una figura, peraltro anche stato deputato al Parlamento come partito socialista, peraltro dimessosi per lasciare il posto in qualche modo dei politici che è una pratica veramente commendevole, perché oggi non si dimette praticamente quasi nessuno, mentre invece appunto era molto famoso, uno scrittore popolare, molto amato, uno scrittore che in qualche modo aveva contribuito a costruire una cultura italiana e quindi quando i soci si riuniscono per dare un nome alla loro società decidono di intitolarla perché è il 1908, in aprile del 1908, appunto è il mondo dei amici, se era fin da subito la chiamano da un po' i sessi perché in qualche modo un po' lo spirito socialista, un po' il fatto che c'era qualche donna che partecipava, nonostante non fosse così comune, ritengono proprio fin dal nome di dichiarare in qualche modo l'importanza di questa pratica di uguaglianza anche fra generi che appunto caratterizzava un po' questo tipo di partecipazione socialista molto popolare in quel tempo. Il percorso e in qualche modo un po' la storia della società pur essendo ultracentenaria è per certi aspetti anche un percorso abbastanza breve, abbastanza paradigmatico rispetto a quello che sono le società in quel periodo, in quegli anni nel pieno della rivoluzione industriale c'è bisogno di in qualche modo di grandi forze lavoro, non ci sono tutele per quanto riguarda il lavoro, in particolare poi il lavoro giovani e donne, il trovarsi, il mettersi assieme, il cercare di avere una forma di autotutela, il cercare di avere una forma di autoorganizzazione che fosse libera e democratica diventa una cosa molto importante. Si riuniscono in questa zona che è di barriera torinese, quindi non è il centro, non è così collegata ai punti nevralgici della città proprio per difendersi, per migliorare la loro condizione di vita che diventa un modo per stare bene assieme con i propri familiari, per figure, essenzialmente lavoratori e lavoratrici o persone che avevano qualche difficoltà a trovare uno status economico particolare, per trovare un modo per stare insieme, per valorizzare questo stare insieme. quindi fin dall'inizio c'erano figure professionali più varie dai ciabattini ai decoratori, ai tramvieri perché c'era un capolinea molto importante di tram a poche centinaia di metri, si decide di costruire questa società che era uno l'occasione di aiutare i soci e le socie e i loro familiari in difficoltà. Due, di costruire assieme, con dei numeri che lo consentissero, situazioni di convivialità e di divertimento, anche perché effettivamente le feste, lo stare assieme, il bere il bicchiere di vino erano una cosa che qualificava quel tipo di organizzazioni. Peraltro, il vino era effettivamente un elemento un po' centrale rispetto alla parte più, come dire, ludica e ricreativa della società. C'era una commissione che si incaricava di andare in giro per i paesi, le colline, per recuperare il vino. Partivano di buon'ora con un carretto, con le botte vuote e dovevano tornare in teoria già insomma in serata per poi imbottigliarlo in società. In realtà certe volte questi giri, per via dei troppi assaggi che facevano gli assaggiatori e quelli che andavano a acquistare il vino, duravano poi giornate intere. Però alla fine della fiera, questo era un modo prodotto per avere un vino di qualità da consumare assieme in società a un prezzo assolutamente contenuto e quindi che potesse essere la portata di tutti i soci e le socie. In realtà il meccanismo per quanto riguarda le feste e poi le domeniche passate in società era quello che tendenzialmente le persone si portavano da casa il cibo che poteva essere il pane con gli affettati, le frittate o cose di questo genere e lì si acquistava il vino in società. Questo era il modo per mantenere la società che naturalmente aveva spese fisse, oltre non tanto le tasse, ma proprio di manutenzione dei locali e di spese vive per comprare attrezzature e cose di questo genere, e appunto il vino era proprio un po' lo snodo centrale per l'economia della società. Ma le donne avevano una posizione un po' ancillare, quasi un po' strumentale, nel senso che uno degli degli aneddoti che viene raccontato era quello che il compito delle donne era quello di venire con la carriola a recuperare il marito ubriaco e riportarlo a casa per evitare che facesse danni anche al ritorno. Molto poche sono state le amministratrici donne della società, però effettivamente da qualche anno, tendenzialmente dal 2007, cioè da quando io sono presidente, tendenzialmente il consiglio di amministrazione è in una percentuale o del 50 al 40% composta da donne, proprio perché ci sembrava appunto giusto che ci fosse veramente una corrispondenza fra l'essere e il dichiararsi da un po' i sessi e poi invece essere al solito in qualche modo poi gestite da maschi. Si parla di una cinquantina di persone che si riuniscono e collaborano e cominciano questa esperienza che nasce appunto in un momento in cui non c'erano gli istituti di welfare che noi conosciamo, quindi non c'era la pensione, non c'era l'antinfortunistica e non c'era l'identità di disoccupazione, quindi in qualche modo lì davvero all'inizio del secolo diventa molto importante tutelarsi, garantirsi in modo autonomo, diciamo proprio auto-organizzato. Però effettivamente questa vicenda del mutuo soccorso che nasce dalla metà dell'Ottocento per quanto riguarda dallo Stato del Bertino e quindi in qualche modo dalla libertà di associazione e da questo principio della libertà di associarsi che poi in qualche modo si sviluppa il mutuo soccorso. La libertà di associarsi per tutelarsi e per raggiungere in modo collettivo un benessere che per certi aspetti ovviamente per persone che lavoravano, che non avevano ovviamente grandi risorse economiche, diventava molto importante. Così come diventava importante anche avere un'occasione perché lo stare insieme, trovare assieme delle forme di sostegno poteva anche aiutarsi in un'emancipazione che voleva dire anche istruzione per sé adulti che magari non avevano ancora, a malapena sapevano leggere e scrivere, tant'è che molte società sono di istruzione, diventare appunto autosufficienti anche in quel modo, quindi anche attraverso le istruzioni ma anche poi permettersi di avere conoscenze e occasioni per i propri figli e quindi per fare in modo che i propri figli avessero un'occasione per emanciparsi. Questo discorso della libertà che nasce effettivamente dalla possibilità di associarsi autonomamente ci fa ricordare il fatto che diventa importante il discorso dell'autonomia e quindi l'adesione volontaria ma anche importante il discorso di costruire una comunità perché poi il concetto di comunità è un concetto molto importante, è un concetto fondamentale per quanto riguarda queste società che hanno poi una storia ognuna molto particolare perché evidentemente è molto diverso essere una società di un piccolo paese su un cucuzio piuttosto che essere per esempio come al nostro caso la società di una, seppure in barriera, di una grande città con tutti i servizi eccetera. Però mancando in quel periodo lì ancora non essendosi affermati servizi come la disoccupazione, la previdenza, la pensione, il sostegno in caso di assenza del lavoro, lo stare assieme e il sostensi in modo mutualistico diventava molto importante per avere una vita dignitosa e, come dire, anche per potersi poi divertire assieme. Il bar domenicale piuttosto che la possibilità di avere un medico a disposizione erano tutte, come dire, caratteristiche fondamentali di tutte le società e anche della Dermicis. Per questo primo periodo, fino alla prima guerra mondiale, la società in qualche modo cresce fino a raggiungere alcune centinaia di iscritti e che però poi vede questa grande frattura della prima guerra mondiale con molti giovani che partono, con i tentativi di mantenere dei collegamenti con le persone che stanno al fronte, quindi c'è un po' una frattura ma continua bene o male la vita ordinaria della società e dei propri soci. Finita la prima guerra mondiale, in qualche modo c'è questo periodo in cui c'è una ricostruzione eccetera, ma immediatamente si arriva al periodo fascista con i problemi che ovviamente il fascismo in particolare per la società in odore anche di socialismo o di infiltrazioni anarchiche o cose di questo genere, cominciano molti problemi. Per quanto riguarda la Dermicis, per esempio, che fino ad allora viveva abbastanza tranquillamente, dal 22 aveva anche una sua sede propria, grande, su due piani costruita in corso casale, al numero 134, subito prima del moto velodromo per riuscire a inquadrarlo. Ecco, in questa sede, che è quella ancora occupata oggi, faceva appunto le sue feste, c'erano quattro giochi da bocce, si svolgeva un'attività regolare, puntuale, con i buffettisti che servivano il vino, si beveva, si mangiava assieme, quello era il modo per quella comunità di vivere e passare il tempo non trascorso lavorando. Il fascismo ha cominciato a girare, per l'estate alcune sono state anche brutalmente vandalizzate, se non bruciate, ma il primo obiettivo era quello di, come dire, intaccare l'identità delle società. Per esempio, nel caso di queste società un po' così inodore di troppa democrazia, l'obiettivo era quello, uno, di far iscrivere i soci al fascio e anche di consegnare la bandiera. Diciamo, la De Amici riuscì a superare questo momento, quindi a mantenere il suo patrimonio immobiliare, dicendo che la bandiera era sparita, non si era trovata, quindi la bandiera è stata nascosta e portata altrove, è stata poi ritrovata nella sede della CGL, a guerra terminata e il presidente, con grande sofferenza sua e dopo una decisione democratica, si era iscritto al partito fascista in modo da dare una copertura in qualche modo alla società. La cosa funzionò curiosamente e paradossalmente perché rimase ogni tanto con una qualche incursione di sgheri fascisti, qualcosa di questo genere, però non ci furono né grandi incursioni, né grossi problemi. La cosa veramente curiosa è che invece, appunto perché era abbastanza frequentata da persone diciamo di era socialista e comunista, ovviamente il tutto nel modo più clandestino possibile, nella De Amici si svolse delle riunioni segrete, per esempio, del CLN del Nord, ed era stata anche scelta perché aveva la configurazione interessante di avere molte vie di fuga, di essere in una zona abbastanza aperta e quindi anche facilmente controllabile dalla vigilanza diciamo del CLN. Non ebbero appunto grandi problemi perché furono molto attenti e fecero per esempio anche sempre la De Amici, poi addirittura la scuola quadri e il PC, partecipò anche Giorgio Amendola, Annetta Fenoglio, che è una delle madri costituenti, quindi in qualche modo fu frequentata da personaggi anche molto esposti e molto ricercati, ma si riuscì con appunto questa cura un po' mimetica del presidente fascista e di vigilanza assoluta e molto attenta degli antisoci a evitare che ci fossero problemi molto gravi, tant'è che la bandiera è stata poi recuperata e in qualche modo la società è poi ripresa a funzionare negli anni, nel secondo dopoguerra, normalmente con feste, un tentativo di ripresa di una vita normale dopo quello che ha stato appunto la guerra mondiale, la guerra civile e tutto quanto ne ha conseguito. Oggi il mutuo soccorso rimane un'occasione molto importante e per quanto posso dire io sul piano valoriale, dei valori etici e culturali, ma anche sul piano patrimoniale, perché ci sono più di 300 società oggi formalmente attive nel Piemonte che hanno tutte una sede sociale, delle proprietà, che vengono dai soci che hanno magari dato in eredità oppure che hanno dato in concessione, che poi è diventata in uso esclusivo della società. Comunque ci sono dei patrimoni molto interessanti che effettivamente è molto importante, secondo me, riuscire a preservare, ma anche è molto importante riuscire ad attualizzare quelle che sono le parole d'ordine fondamentali del mutuo soccorso, che è in primis la partecipazione che poi ci riporta al discorso della responsabilità, la partecipazione di rete perché il mutualismo nasce proprio in alternativa, se non in contraposizione all'atteggiamento filantropico caritatevole. Il mutualismo è quello che io partecipo, anche impegnandomi, anche con qualche fatica e addirittura sofferenza, per un benessere mio e della comunità nel caso di bisogno e in generale per lo svolgimento dell'attività. La partecipazione diventa fondamentale il discorso della solidarietà perché appunto il mutualismo si nutre e vive nella solidarietà nel senso che parlare oggi di solidarietà e di mutualismo in tempi di un individualismo spinto, sfrenato, che si nutre solo di competizione, eccetera, è una cosa un po' rivoluzionaria. Richiamarci a questi valori che peraltro sono poi quelli dell'inizio del mutuo soccorso di metà ottocento, ma sono poi quelli che ispirarono nel diciottesimo secolo la rivoluzione francese, se proprio vogliamo risalire. Ai primordi, quando libertà, fraternità ed uguaglianza erano le stesse parole che poi noi ritroviamo oggi. Semmai oggi, anziché fratellanza, un pochino di più, troviamo solidarietà che è giusto per fare le punce alla storia, è il termine che è subentrato alla fratellanza dopo la Comune di Parigi. Quindi diciamo è tutto un mix valoriale che però oggi è perfettamente attuale e che appunto le 300 e più società di mutuo soccorso presenti in Piemonte potrebbero effettivamente mantenere e rilanciare. È chiaro che si tratta di attualizzare quello che era il vincolo e l'obiettivo di allora, mentre allora si trattava di dare un minimo di reddito, sussidio a chi aveva perso il lavoro, aveva subito un infortunio. Il classico era una lira al mese per avere sempre, anche facendo una qualche fatica, come partecipazione appunto e che è anche la responsabilità di cui parlavo prima per ottenere però una lira al giorno in caso di bisogno e questo era proprio lo scambio mutualistico in qualche modo che viene richiamato anche dai libri. Da questo punto di vista, questo tipo di intervento e di sostegno che c'era allora prima che ci fossero le iniziative del welfare pubblico, dal 1930 fino agli anni 50, evidentemente adesso non sono più tanto attuali, anche se ai noi stiamo ritornando per certi aspetti esattamente a quelle che erano le difficoltà di allora, perché il welfare, apatia per esempio dalla sanità pubblica, che era quella che si era riuscita a conquistare, che era quella che aveva tolto un po' di motivazione e mutuo soccorso, adesso sta diventando invece un altro problema molto serio. Però l'attualizzazione è che si tratta di capire come oggi si è in condizioni abbastanza diverse rispetto ad allora, ma il principio di partecipare e quindi di avere un ruolo in qualche modo nel costruire un nostro destino ma anche nel costruire un nostro livello di benessere. Il principio di farlo con solidarietà e quindi non una logica di mera competizione di individualismo spinto ovviamente sono del tutto attuali, ma è ancora di più attuale il principio di uguaglianza che che se ne dica, benché vada oggi sono tutti pronti a parlare del contrasto alla disuguaglianza, quasi come se la disuguaglianza fosse un fatto naturale e inevitabile. Mentre invece il mutualismo, il mutuo soccorso, quel tipo di esperienza è una visione in positivo dell'uguaglianza. Il discorso di sentirsi e partecipare da uguali a questa esperienza comunitaria è una cosa che è certamente attuale e che in qualche modo, almeno per quanto è la mia esperienza, cerca di informare l'attività delle società ancora oggi. Per dire anche poi il discorso dell'uguaglianza e della democrazia, queste società sono state e possono essere ancora di più per certi aspetti oggi un nucleo di cittadinanza e di democrazia. Una nota politologa, Nadia Urbinati, parlando del mutuo soccorso, qualche anno fa ha detto che il mutuo soccorso è l'anima profonda della democrazia, che è una bella frase, ma a ben pensarci è anche una cosa che ha un senso proprio se ci richiamiamo a questi valori di cui si parlava prima, che è l'uguaglianza. Nello statuto della demicis era vietato, per esempio, questo forse è un esempio di disuguaglianza capovolta, ma era vietato che diventasse presidente un non operaio, quindi un caposquadra, un caporeparto, perché non bisognava in qualche modo far sentire disuguali gli operai, i contadini, quelli che partecipavano. Per il primo presidente, che invece era un caposquadra dei tranvieri, perché era uno bravo, sapeva parlare, eccetera, quindi era stato anche scelto da tutti gli altri soci e socie come una figura rappresentativa che valorizzasse la loro società, si fece un cambiamento, si fece una delibera specifica per lo statuto, per cambiare lo statuto, perché in casi eccezionali anche un caposquadra potesse fare il presidente. Dire una cosa del genere oggi è veramente un po' fuori dal tempo, però quel tempo lì, siccome è riuscito ad arrivare fino ad oggi e tutto sommato appunto cominciamo anche a vedere figure un pochino più giovani che si avvicinano e che apprezzano questo tipo di attività e di stare assieme, direi che appunto ci permette di sperare. Naturalmente questa attualizzazione di cui si parlava deve trovare degli aspetti concreti, cioè non si può pensare di ripetere pari pari quell'esperienza lì, tipo andare col careto a cercare il vino nelle colline, però effettivamente opportunità di crescita, di possibilità di confronto, di incontro culturale e di emancipazione per le persone in posti liberi e in cui ci sente uguali, credo che sia un aspetto fondamentale, anzi da preservare non solo con un museo ma con un articolo in Costituzione. Infatti il riferimento poi è alla Costituzione, quando anche la Urippinati Paesi di Democrazia parla di questa possibilità di essere di libera associazione e di confronto laico. Citando, noi abbiamo appena cambiato noi come dei amici il nostro statuto e abbiamo preteso che nel nostro statuto si iscrivesse in modo chiaro che uno dei principi a cui si ispirava la società erano comunque la laicità e l'antifascismo che per quanto mi riguarda è una delle poche esplicitazioni di temi che sono magari tante ho richiamati ma ben poco praticati oggi come oggi. Grazie a tutti.